Ciao, sono Anna Soave, benvenuta sul mio canale YouTube. Oggi parlo proprio a te che sei un'imprenditrice donna che vuoi diversificare il tuo business ed essere sempre un passo avanti. Benvenuti sul mio canale YouTube. Vi ricordo che per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto è indispensabile iscriversi al canale e attivare la campanella. E per tutte le persone che mi seguono ricordo che è attivo il mio sito web www.annasoave.net dove potete trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo il network marketing. Oggi mi rivolgo proprio alle imprenditrici, a quelle donne tutte d'un pezzo che fanno salti mortali per portare avanti il loro sogno e il loro obiettivo di avere un'attività indipendente e imprenditoriale e hanno spesso una famiglia, dei figli, ma non solo, hanno anche una vita, quindi hanno delle passioni, hanno degli hobby, vogliono vivere il loro tempo in maniera completamente diversa e slegate anche un po' a tutto quello che l'imprenditoria tradizionale impone. Perché sono qui? Perché vi voglio spiegare come si può essere imprenditrici nel mondo dell'online, portandoti il mio esempio e la mia soluzione. Io da oltre 7 anni sono brand partner con l'azienda Partner Co, che è un multibrand americano che tratta prodotti di benessere e di bellezza a 360 gradi con prodotti di altissima qualità, certificati e abbiamo attuato una strategia dove lavoriamo sui social media ma in maniera professionale e profittevole. Cosa significa? Che il cuore della nostra strategia è il network marketing attrattivo, cioè portiamo le persone a chiederci informazioni e lo facciamo in maniera totalmente gratuita perché i contatti che ci sono grazie ai social sono sempre di più. Pensaci un attimo, anche la realtà più piccola del tuo paese o della città in cui vivi ha quantomeno una pagina Facebook. Questo perché? Perché proprio anche il mondo della pubblicità sta cambiando. E essere al passo con i tempi ti renderà ancora più visibile a tantissime persone. È un po' come se tu avessi la vetrina virtuale del tuo negozio e non hai neanche idea quante persone ogni giorno passano davanti alla tua vetrina e magari pubblicando proprio quel contenuto troveranno la soluzione ad un loro problema e ti contatteranno. Questo significa network marketing attrattivo, quindi non utilizziamo come strategia di vendita la lista nomi, contattare le persone, mandare codici sconto, mandare cataloghi. Perché? Perché abbiamo visto con il tempo che intanto è una strategia ormai obsoleta e strassuperata e poi fa perdere alle persone un sacco di tempo e di soldi. Non andiamo neanche ad affittare sale, non andiamo a rompere le scatole alle persone per entrare nelle loro case e fare delle riunioni. Il grosso del nostro lavoro è proprio online. Come si fa per entrare? Non hai rischi di impresa perché l'apertura della posizione di guadagno costa solo 29,95 euro. Quando hai attivato la tua attività, quanti soldi hai speso, quanto magazzino hai dovuto fare, quanti costi hai sostenuto all'inizio e quante notti insonni hai fatto sperando almeno di andare alla copertura dei costi nel più breve tempo possibile per poi sperare di guadagnare. Qui è esattamente l'opposto, perché ti verrà dato un business chiave in mano con una strategia già consolidata che per te è completamente gratuita. Ci sono tantissime persone che collaborano con me e con il Pinkbone Business che sono già imprenditrici tradizionali e affiancano questa attività per avere una diversificazione delle proprie entrate. Oppure ci sono delle persone che con il tempo hanno deciso di portare avanti solamente questo business online perché man mano che aumentano i guadagni si rendono conto quanto sia conveniente. Parlare con le donne è sempre stata un po' la mia missione e ti spiego perché. Io sono una pedagogista, ho sempre lavorato nell'ambito del sociale, sono sempre stata fuori casa per tantissime ore e già mi stava un po' stretto perché spesso il fine settimana ero impegnata anche solamente per scrivere i nuovi progetti educativi e mi godevo poco il mio tempo e la mia vita. Mi è diventato ancora più pesante quando sono diventata mamma. Quindi ho pensato che ci doveva essere per forza una soluzione e l'ho trovata nell'unico posto che non avrei mai voluto, che era quello dei social media perché avevo un'idea sbagliata, vedevo tutte queste persone anche molto molto aggressive che facevano vedere tanto il loro corpo, che facevano un po' le influencer e invece io avevo in mente un modello di impresa completamente diverso che dava risalto alla femminilità senza mai cadere nella volgarità. Ecco, noi lavoriamo proprio così e sono sicura che una piccola pulce nell'orecchio te l'ho messa per chiedere più informazioni e capire bene come funziona questa attività. Perciò ti metto nel primo commento il mio bit.ly, clicca, vieni direttamente con me su WhatsApp che ci accordiamo, ci facciamo una chiacchierata, sarò ben felice di conoscerti. Ricordati che da questo momento in avanti parleremo tantissimo di imprenditoria femminile e quindi iscriviti al canale e attiva la campanella e vai a sbirciare sul mio sito web www.annasoave.net Noi ci vediamo domani con un'altra puntata di Soavemente Live. Noi ci vediamo domani con un'altra puntata di Soavemente Live